purtroppo c'è un enesimo ritrovamento zona sinarca territorio di guglionesi non si può andare a lavorare tranquillamente perché purtroppo succedono queste cose qui abbiamo cercato i cuccioli perché la cagnolina come potete notare avrà partorito da poco e niente quindi abbiamo cercato in vano di trovare i cucciolotti non abbiamo trovato nulla grazie a tutti